La loro mancata costruzione ha suscitato le dimissioni Lampo dell'assessore Marcello Caremani nell'ultimo consiglio comunale di Arezzo. Parliamo delle case popolari che sarebbero dovute sorgere nell'attuale area dedicata agli spettacoli viaggianti del comune di Arezzo, in viaduccio da Buoninsegna. Una storia questa che parte da lontano da circa due anni e mezzo fa. Allora furono tre imprese del territorio a presentarsi all'amministrazione comunale con un project financing, un progetto in cui i costi sarebbero stati sostenuti dalle tre imprese e una volta recuperati, con gli affitti comunque a prezzi sociali, gli alloggi sarebbero divenuti di proprietà del comune di Arezzo. Nulla da fare, l'allora giunta comunale con una specifica delibera rimandò al mittente questa proposta perché sarebbero stati utilizzati i finanziamenti regionali, gli stessi finanziamenti che oggi potrebbero essere persi. Ovviamente dell'assessore Caremani non le so dire. Io le so dire cosa è accaduto circa due anni fa quando con la mia azienda, con l'ausilio dell'architetto Pietro Pagliardini e con altre due primarie aziende, una nel campo della sanità, diciamo così la più nota, e un'altra l'impresa di costruzione più importante che c'è in ambito provinciale e non, avevamo pensato di proporre un project financing al comune, secondo la procedura dettata dal codice degli appalti, per realizzare appunto un intervento simile a quello lì, di cui alle famose divisioni dell'assessore. C'è una delibera di giunta datata 21 marzo 2012. L'allora assessore alle politiche sociali era Lucia De Robertis. In questa delibera che cosa si dice? Niente, questa era una delibera di indirizzo. Sostanzialmente il comune aveva individuato l'area del Luna Park per realizzare queste famose case popolari e quindi aveva attivato una procedura di finanziamento con la Regione Toscana. La nostra iniziativa però poteva essere in linea con quella, nel senso che l'intervento del project, così come regolato dal comma 19 dell'articolo 153, è previsto chiaramente dal codice degli appalti, quindi si potreva innestare nella procedura di richiesta del finanziamento della Regione Toscana, della quale ovviamente non so come è andata a finire, quindi non so i termini. Però una cosa è certa, che qualsiasi intervento per essere finanziato va prima progettato. Se questa scelta sia stata giusta o sbagliata ce lo dirà soltanto il tempo, ma le case popolari nell'area del Luna Park, se il comune di Arezzo avesse accettato questa proposta di project financing, oggi sarebbero realizzate? Ma assolutamente sì. La procedura prevista dal comma 19 è una procedura rapidissima, ha il vantaggio che in tre mesi il Consiglio Comunale si deve esprimere. Successivamente, in tempi brevissimi, l'azienda deve dare la progettazione definitiva e esecutiva, realizzare le case e poi chiaramente provvedere alla manutenzione. E in due anni le assicuro che gli immobili si realizzano.